Prepariamoci insieme! Ho già applicato il mascara dato che ci metto un sacco a mettere Ora invece procediamo con la base Allora mi devo preparare perché questo pomeriggio devo uscire con le mie amiche Andiamo di cipia Questo make up è perfetto per chi di solito è sempre di fette esattamente come me Illuminiamoci! Una ripassata di mascara non fa mai male Ovviamente mi sono sporcata Ora invece passiamo alla cosa essenziale di ogni mio make up Sono il labello Abbiamo questo crayone quello che utilizzo di solito però oggi sono in vera di cambiamenti quindi andremo ad utilizzare questo alla cipia Ha un profumo buonissimo idrata Questo è il risultato finale Fatemi sapere quali sono i vostri labello preferiti Questi sono i miei frazzi